dobbiamo prendere già posto sul sacco allora allora non vedo la squadra di Venegono non vedo la squadra di Venegono prego di raggiungere il campo di gara non c'era malap 주� possono non c'era malap diciamo hai capito ti eppangu non corrie non contiene laYea non portico non era o quale mi sono i casi 16 non so mi sono or брановoria Grazie. Quando c'è uno preso fischio, ok? Vale tutto il corpo. Tutto, vale tutto. La coda non la no. Vale tutto. Sì, vale, vale, vale. La prende al volo, è preso chi ha tirato. Chi è? Ci sono i capitani che facciamo pari dispari? Ci sono i capitani? Capitani? Capitano di Venegono? Abba, capitano di Venegono? Chi è capitano di Venegono? Uno che fa pari dispari, è uguale, sceglietene uno. Vai, bimbo fa colpo secco, dite così. Dispari pari, vai. Tre dispari, palla o campo? Palla, che campo volete? Questo? Ok. Dieci in campo. Prigioniero, dilonate. Montatemi. Montiamo un secondo. Uno, due, due. Qua sono tanti. Tre, sei, nove, dieci. E' fatti. Tre, sei, nove. No, è giusto. Loro sono fuori. Per favore, se siete fuori, chi è fuori dal campo, fate dei passi indietro che così non facciamo confusione che abbiamo tutti la maglietta blu. Tre, sei, nove, dieci. Tre, sei, nove, dieci. Siamo pronti? Il programma è pronto? Tre, due, uno. Tutti dentro qua. Palla di Penecono, invasione. Palla di Penecono. Vai, Leo. Palla di Penecono. Tanto. Al massimo sei passato. Basta la palla, ragazzi. Basta la palla. Allora, nel campo al massimo si possono fare set passaggi. Non più di set passaggi. Vi potete passare la palla, ma non finisce l'oltre. Occia alle righe. Non pestate le righe. Marco, per mia attività. Attenzione. Devi scappare! Ancora nessun prigioniero. Molto combattuta la partita. Nessun prigioniero. presa. Ecco il primo prigioniero. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo. Scusate, non c'è un secondo. È il bicchiere in mano. È il bicchiere che pesa e mi dà problemi di stabilità. Se arriva piano, prendiamo la polo. non c'è un secondo. Non c'è un'altra. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo. Non c'è un secondo. Dai ragazzi! Invasione, palla vene d'ore. Diciamo che a favore dell'arbitro pure il segno di l'arbitro, ma è molto impaziale. Sì, sì, internazionale. Qual è la scuola che ha fatto con gli internazionali quelli che sono qui? Eh, testa, è calmino, eh! Ma uno! Uno dei nostri. Dai, dai, forte, dai! Eh, dai! Attenzione, direi parla. Lì non serve al volo, fate rimbalzare e prendete! Bravissimo, bravissimo, c'eri quasi, bravissimo. Occhia alle righe! Se rimbalza prendetela, lì al volo non serve! Però rimbalza, palla delle gono, piatta di indietro! Attenzione alle invasioni, eh, perché se la palla entra nel campo di gioco... Brava, 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 così va bene! Vai, spostatemi! Bravissimo, bravissimo! Occhia alle righe! Proprio, eh, allora! Ti avvo... Una scepenza, per favore! Dai, forza, dai, forza, dai più atteso, bravissimo! Bravissimo! Mieto la riga! Prendetela, prendetela! Bravo, Leo! Bravo, Leo, bravo, via! In balta, prendetela, stai in balta, ragazzi! Vietro! Nostra! Attenzione, palo del bel bordo! Bravo, bravo, Mattia, così, eh? Bravo! Occhia alle righe! Ancora, io ne voglio la posizione! Occhia alle righe! Ok, tira forte, bravissima! Sei minuti, mancano, Mattia! Mancano per sei minuti! Ma allora, stai arrivando! In questo momento è in vantaggio di attenzione! Sì, non è un errore! Ci sono venuti da fuori dai campioni, buono! Questa è una nuova... Mattia oggi non c'è quest'anno, quindi si sente... Si sente spinto da questa... Dai, dai, vai, Mattia! Così, bravo! Bravo, quasi! Subito, Anna, subito! Prima che tornino indietro! Eh, così... Palla di Elegono! Palla nostra, palla nostra! Vai, Mattia! Vai, Mattia! Benissimo! Palla presa il volo, un altro prigioniero! Vai, Mattia! Subito, Anna, subito! Non per terra, più alta! Allora, la palla non dovrebbe essere finita a terra, se la palla non è più... Non è più prigioniera! Guarda! Non dovrà più prigioniera! Leo! No, Leo! Non per terra, però, eh! Dai, che piccola! Con una mano sola! Bravissimo! Il nostro cecchino di ronate... Vieni, la truffa di bambini! Leo! I gruppi di ragazzi! Ma chi è sempre? Non look, non look, Dani! Non look! Parca le righe! Eh, allora! Va bene! Vai, arbitro! Dai, dai! E l'abbè vinta la terza antica! Vai, vai, vai! Dai, Mattia, subito! Vieni, però! Dai, dai, veloce! Veloce! Mattia! Sì, volevo dire a prendere un po' No, me ne dono, usa la tecnica... No, c'è la riga! Dai! Dai, rapidi, rapidi! Bravo, Mattia, subito! Sono quattro minuti, eh! Subito! Palla con la ronate... Vediamo adesso come la usa... Ok, nessun prigioniero... Molto pesa questa partita, comunque, eh! Eh, no, bravo! Vai, veloce! Vieni, vieni, vieni! Siamo da più, però! Fate la rimancare, prendetela, però! Riprende la palla a ronate... Vediamo... Vai, vieni, vieni! Spara sul gruppo! Bravissimo! Bravissimo! Oh, se rimbalza, prendetela la palla, eh! Andate! Bella! Dai, subito, subito! Andate! Occhio alle righe! Veloce! Occhio alle righe! Subito, Leo! Leo, Leo, subito! Sono a terra, non vale pure, non è più avvenuta... Occhio alle righe! Guarda qui nel gioco, prendi più palla e più avvenuta... Vai, vai! No! Bellissima la presa, non è più avvenuta... Non è più avvenuta... Non è più avvenuta... Non è più avvenuta... Brava, vittoria! Buona mattia, subito! Sì! 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 Bene, bene, per lui! È rimanato! È rimanato! No, l'ha presa sulla schiena... No, l'ha presa sulla schiena... Ero solo! Ero solo! No, 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 non è più schiena! Non sono rimanato! Non sono rimanato! Ti vuole lavare! Marco, non è più schiena! Non è più schiena! Non posso parlare di tu! Non ti stavo a dare anni! Non ti stavo a dare anni! È stata merda! Ma non si chiama il gioco! Ma altre volte si schiavano per portare il parito di te! Non ci sono a dare il gioco! Non ci sono a dare il gioco! Non ci sono a dare il gioco! Ma anche adesso è successa la stessa cosa! Ma anche adesso è successa la stessa cosa! Sì! Gioca! Non è più il campo per piacere, i bambini sono a continuare la partita... Nooo! 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 Occhio alla riga! Occhio alla riga! Mancano solo 2 minuti, eh! Occhio alla riga! Occhio alla riga! Quindi abbiamo tre prigionieri contro quattro! Quindi è molto pesato! Veloci! Veloci ragazzi! Come ve lo vorrei fare agli stessi prigionieri! . Attenzione, come ve lo vorrei potrebbe fare agli stessi prigionieri! Subito! Subito! Attenzo non su! Oh no! Le andate a scontorarsi! questo momento sta un po soffrendo l'altro giocatore di Venigono un altro prigioniero quindi sei contro due tre sei contro tre giudice 30 secondi 30 secondi non diciamo nulla però sembra un po' compromessa 10 secondi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 partita finita quindi la testa giudica la sfida per il terzo e quarto posto 7 a 3 7 a 3 vai vai bravi mamma 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 Grazie. Sto dicendo molto tranquillamente, nel senso che non c'è... Va bene, infatti, poi il terzo o quarto. Oh, il cinque. Fermi? C'era la Nadia! Non lo facciamo, non lo facciamo, andiamo! Ehi! Mancava Nadia! Tiago al capo, dai, mancava Nadia! Mancava Nadia! Abba sopra qua! Bravissimi! Bravissimi! Bravi! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.